Eccoci qui, terza speciale amici, 7 km 50 secondi di vantaggio sul secondo in classifica Ottimo il feeling della nostra lanciodetta su asfalto Dobbiamolo mettere a volo Ecco qui Come non detto Quattro sinistra lunga In taglia quattro destra In tre sinistra lunga Apre su crinale 70 Cinque destra lunga Stringe tre lunga In due sinistra 30 Cinque destra In cinque sinistra su crinale lunga Stringe in taglia quattro destra Tre secondi di vantaggio in questo momento Quattro sinistra lunga su crinale In taglia cinque destra Quattro sinistra Cinque destra taglia In cinque sinistra In quattro destra In sei sinistra Sei destra In cinque sinistra lunga In taglia sei destra In cinque sinistra su crinale 30 Sei destra molto lunga su crinale 50 Stretto quattro sinistra Stringe 30 Rallenta sei sinistra su crinale In taglia poco tre destra Quattro sinistra Taglia quattro destra E tre sinistra lunga 30 Taglia quattro destra su avvallamento Apre su crinale In sei sinistra E taglia poco quattro destra Tre sinistra lunga Apre Sei sinistra In cinque destra Apre In tre sinistra stringe In tre destra stringe In quattro sinistra In quattro destra lunga Apre su crinale In improvviso quattro sinistra In cinque destra In attenzione due sinistra lunga No 30 Due destra lunga Ah va bene 30 Due sinistra lunga Stringe 30 Quattro destra molto lunga Stringe Tre lunga Stringe Cinque sinistra lunga Stringe In tre destra stringe In cinque sinistra lunga Stringe Apre Sei lunga Quattro destra In tre sinistra Stringe 80 80 Rallenta Quattro sinistra In quattro destra Apre su ponte Stringe Tre E sei destra 50 Ai apre la mano Di alento 5 sinistra molto lunga Stringe Quattro Cento Tieni la sinistra In taglia molto Cinque destra Su crinale In attenzione Tieni la sinistra Su crinale Tre destra Stringe 30 Quattro sinistra lunga Stringe due Apre In sei sinistra molto lunga La recupera col freno a mano Clamoroso In due destra lunga Apre Stringe Uno destra In due sinistra E crinale Uno sinistra Su traguardo In quattro destra lunga Allo stop Minchia su asfalto proprio Abbiamo trovato il nostro terreno ideale di Di conquista Potremmo aver vinto la tappa La vettura sostanzialmente senza danni Ormai il nostro vantaggio sopra il minuto Niente amici A dispetto delle gruppo B Che erano vetture Inguidabili Anche su asfalto Con una vettura come le gruppo A Come la Delta Meno potenza Ma veramente tanta guidabilità Meno potenza Comunque una vettura potente E divertente da guidare E con un'ottima guidabilità Mi sto divertendo da pazzi Che dire Spero di poter continuare così Perché E' veramente molto bello guidare questa vettura Chiaramente Ci vorranno anche Altre situazioni da Ecco qua Ecco qua l'errore che ho fatto Comunque un paio di errori Ma per il resto la vettura è stata veramente fantastica Bellissimi copricerchi anteriori Tipici della Lancia Delta Sentiamo il rumore E' veramente fantastico Manca lo scarico Che borbotta sempre C'è una mano Praticamente utilizzata Qua è su tutta la prova speciale Che dire amici Vi saluto Mancano Penso due o una Non lo so Prove speciali Cerchiamo di vincere questo rally E di vincere il campionato In modo da salire di categoria Saluti